ciao signori ben tornati e voglio dirvi una cosa importante youtube va a cancellare tutti i video sul canale mio e questa cosa mi fa molto molto piacere questa cosa mi fa molto arrabbiare perchè Yagomba a me mi vuole il video non è una cosa bella perchè me lo cancellai il video? perchè sono persi in merda perchè uno che dice una cosa no? uno che dice oh mio dio è un bambino che vuole farsi un canale da gmail che ha hdlr anche che sto facendo un piacere grandissimo e o che mi fai mi dà cerchi il canale? questa non è la cosa bella no? questa non è la cosa bella che fai a me cioè poi dici vabbè non c'hai un canale non c'hai bobo e qui e... ma che cazzo dire il cervello? il cervello come cazzo la vede? come cazzo ce la vede il gomba? come cazzo ce la vede il cervello? cioè io questa cosa... io sono rimasto il bico poi io dico a fare anche su quiz perchè Yagomba è una merda Yagomba non è... non è... non è fatto per me perchè Yagomba mi cancellai video, mi cancellai live, mi cancellai quello, mi cancellai quell'altro io che cazzo devo fare io la vede mia? che cazzo devo fare io? che cazzo devo fare io? cioè fammi impiegare una cosa no? come cazzo devo fare io? Yagomba è vero che ho avuto la rumba e la mezza quindi scusate ho fatto il video a fondo questa rosa molto molto blu ab... bruttissima E quindi, ragazzi, lasciate un commento, lasciate un mi piace, se volete, date un video che vuoi così, il gioco mi ha fatto arrabbiare, quindi ciao signori!